in montagna è tutto più faticoso caccia molto faticosa molto bella molto impegnativa arrivare sui luoghi dove potremmo avvistare qualcosa artali tentare di seguire i nostri cani raggiungerli quando sono in ferma vicino ad un precipizio ma salire la montagna significa anche godere degli straordinari panorami offerti dai sibillini della sua natura vera e dei suoi silenzi assordanti e qualche volta della visione fugace di una coturnice con la sua splendida livrea grigio bruna senza dimenticare il pranzo da re che Enrico in un ambiente incomparabile avrà preparato l'insalata di stinco patate viola erbi di campo e midollo anche per la prima cosa sui Grazie a tutti.